Ciao a tutti, io sono Giuseppe Mancuso. Oggi facciamo un argomento su come produrre uno staccato sul violino. Lo staccato è una tecnica dove la nota non si fa sentire per tutta la sua durata, ma di una piccolissima durata. Dove si produce questo staccato fra una nota e l'altra. Cioè ha una durata, diciamo, non più per il valore che la nota, la figurazione della nota ci indica, ma si stacca il suono quasi subito, a secondo poi di come è l'andamento del brano, del pezzo. Oggi la facciamo su una scala, la scala pentatonica di La. E facciamo... Si può fare in tanti modi, l'ho staccato, io l'ho fatto producendo... Si può fare anche con la... Si può fare anche con la nota, io precisamente mi piace più questa... questo tipo di staccato qua poi secondo poi il pezzo che uno va ad eseguire abbiamo tanti modi di produrre questo tipo di staccato o più lungo o più corto a secondo poi la sensibilità è la diciamo di chi la esegue a me piace più così poi qualcuno lo fa poi secondo come come piace così però importante è che si faccia sentire lo staccato un'altra cosa Ora la diteggiatura è questa qua. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, poi 2, 3, allungando il mignolo, 4. Questa è la diteggiatura per trovarsi sempre nella posizione fissa, senza spostarsi, perché se uno si sposta può poi non avere più la visualizzazione della posizione sul violino. Bene, per questo video è tutto. Fate questo esercizio e vi rimando ai prossimi video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e a vederci a presto. Ciao!